Un convegno venerdì prossimo con il ministro Garavaglia al centro del dibattito, chiaramente l'artigianato e le sue infinite possibilità anche per attrarre persone sul territorio. Sì, venerdì 17 alle ore 11 aspettiamo il ministro Garavaglia. Siamo felicissimi di ospitare il ministro in questo momento cruciale sia per il nostro territorio che per la nostra economia. Siamo in un momento in cui l'economia è ripartita, Arezzo è al centro, tutti parlano di miracolo di Arezzo per la gente che viene ogni fine settimana a visitare il nostro territorio e purtroppo abbiamo ancora la spada di Damocle di questo maledetto virus. Quindi a colloquio con il ministro, fargli le domande che comunque interessano tutta la nostra economia e il nostro territorio. Sappiamo da sempre come abbiamo capito più che altro ora con il post pandemia quanto sia importante che vadano a braccetto e siano compatibili tutte le botteghe e l'artigianato con il turismo. Sono due binomi imprescindibili. I numeri che arrivano però anche dalle classifiche sotto il profilo proprio dell'artigianato, dello sviluppo e del lavoro sono buoni? Forse sono anche una bella ripartenza o motivo anche per parlare col ministro anche di questo? Certo che sì, sono ottimi, le nostre aziende sono entusiaste ovviamente parlando di turismo sono necessariamente coinvolte tutto il trasporto alle persone, tutta la parte del benessere, tutto l'agroalimentare, sono tutte le nostre aziende che quotidianamente lavorano e ripeto c'è bisogno di entusiasmo e sono sicura che il ministro riuscirà anche a darci quel messaggio positivo che è necessario per il nostro territorio.